Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Carbonia 22 dicembre 2021. Voglio consolare il mio popolo, i miei figli o il piccolo resto che sta lottando. Vi benedico figli miei e vi esorto ad essere sempre più grandi in questa missione, la vostra mamma celeste al vostro fianco e sempre con voi e vi conduce. Abbiate fede in Gesù Cristo, nostro Signore Salvatore, portate a Lui la grandezza in questa missione. Abbiate pietà del suo cuore che piange per la perdita di molti figli. Amatelo, adoratelo e seguitelo, figli miei, Lui colui che tutto può e tutto rimetterà in ordine, presto vedrete il suo volto, conoscerete il vostro Dio creatore e conoscerete la sua grandezza nella sua grande misericordia. Questo popolo ormai si è perduto nelle mani di Satana, ha accettato di volere lucifero, figli miei, non è più con il Signore Gesù Cristo, ha abbandonato la fede in Cristo Gesù e si è rileguato nella melpa provocata da Satana. Nelle false luci si è perduto, ha creduto a un altro Dio e non al suo vero Dio. Oggi voglio abbracciarvi tutti, figli miei, voglio consolarvi, voglio toccare i vostri cuori e voglio segnarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voglio forgiarvi a vita nuova, figli miei, voglio educarvi alle cose di Dio e portarvi a Dio in santità e grazia. Avanti bambini miei, non perdete la speranza, Dio presto si manifesterà e organizzerà con voi una grandezza infinita per il suo nuovo popolo. Sarete capostipiti di una nuova generazione, grandi sarete nel nuovo mondo, grandi nell'amore figli miei, la grandezza è nell'amore, non nelle cose del mondo, non nelle cose materiali, ma nello spirito sarete immagine e somiglianze di Dio, come Dio vi creò fin dall'inizio. Sarete i suoi figli per sempre e godrete dell'immensità del suo tutto, entrerete a piedi nudi nel suo giardino, metterete i vostri piedi su acque limpide e prati verdi, vi bagnerete sempre nell'acqua del suo amore e vi farete abbracciare da voi e con voi, camminerete in eterno, in felicità e amore grande. Voglio consolare il mio popolo, i miei figli e quel piccolo resto che sta lottando per la conquista della felicità e della vita eterna, quel popolo che Dio ha scelto, quel popolo che ha dato tutto il suo sì al suo Signore, quel popolo che presto entrerà nella nuova era a godere tutto ciò che il Signore ha preparato. Figli miei, siate ormai alla fine e poco vi resta ancora da vivere su questa terra in queste condizioni di peccato, la vostra vita cambierà d'improvviso, vedrete con gli occhi dell'amore e camminerete con l'amore. La vita per chi ha rifiutato il suo Signore Gesù Cristo sarà nella grande tribolazione, conoscerà la guerra, conoscerà la fame, conoscerà il dolore, il vero dolore, conoscerà le malattie peggiori e nulla si potrà fare perché un popolo che ha abbandonato il suo Dio non potrà nulla. L'uomo resta uomo, Dio è Dio e solo in Dio, avrebbe avuto la salvezza, la pace e la gioia eterna. Avanti unisco le mie mani alle vostre mani, vi conduco figli miei, abbandonatevi al mio cuore immacolato. Consacratevi tutti i giorni al mio cuore immacolato perché io vi porto a Gesù. Voi siete figli di Dio, gli unici eredi della casa di Israele. Amen. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dico a voi, qui su questo colle, a tutti quelli del piccolo resto che stanno seguendo Gesù, Cristo, mio figlio. Vi unirò tutti a breve. Tutti sarete in un unico luogo, luogo prestabilito da sempre, da Dio Padre per tutti i figli che avrebbero seguito questo disegno di salvezza con Maria Santissima e suo figlio Gesù. Amen. O Beato San Giuseppe, fiduciosi, invochiamo il tuo patrocinio. Amen. Ora ci dedichiamo a una piccola riflessione su questo messaggio. Sia lodato Gesù Cristo, ringraziamo la Vergine Maria che sta consolando questo piccolo resto, questo popolo che confida nella fede in Gesù Cristo e non nelle cose del mondo. non nella perdita del tempo e le cose del mondo che non servono, come i giochi, le mode, i vizi, i divertimenti. E quindi lo stare lontano da Gesù, da Eucharistia, dai sacramenti, dalla preghiera e dall'imitazione di Cristo attraverso le opere, attraverso il darsi da fare in una vita etica per testimoniare non un Gesù che non esiste, ma quel Gesù di cui la Madonna ci parla in tutte le sue apparizioni. Un Gesù che medita, che prega, che tace, che dà l'esempio, non un Gesù che deve fare 50.000 cose perché tutti lo debbano ammirare e tutti debbano dire Gesù è un uomo e una donna che lavorano in modo solitario, nascosti, come anche nel mio caso, che sono abbastanza nascosto nel portare questi messaggi e poi fare delle riflessioni affinché i miei fratelli e sorelle possano comprendere che molti messaggi, anzi tutti i messaggi che troviamo in tutte le apparizioni della Madonna necessitano poi di una riflessione, di una spiegazione perché anche come i messaggi di Luzio di Maria, di Peggio Gori, di Trepignano Romano è facile leggerli, però poi li accantoniamo perché non li capiamo e quindi c'è necessità di un canale come il mio e spero che anche nel mio caso venga seguito questo esempio in cui dopo la lettura di ogni messaggio ci sia una riflessione, una meditazione, una spiegazione perché sennò diffondere i messaggi soltanto per like, iscrizioni su YouTube non ha senso ma questo è un mio parere allora ti ringraziamo Dolce Madre perché ci parli della grande tribolazione nella quale oggi già siamo, una grande tribolazione che comunque è divisa in due parti una prima parte di preparazione, una seconda parte di tormento e prove infinite fino a quando non ritornerà Gesù nella gloria allora in questo messaggio Dolce Madre, come anche in tanti altri messaggi tu ci parli di questa seconda parte della grande tribolazione che verrà dopo l'avvertimento che verrà dopo il grande miracolo una tribolazione fatta dai castighi divini una tribolazione fatta da un popolo da una umanità che flagellerà ancora di più l'umanità che segue che non segue la Santissima Trinità ma che segue Lucifero, il diavolo e tu ci hai promesso Dolce Madre che questo piccolo resto tu lo riunirai secondo i disegni del Padre che oggi ancora non possiamo comprendere però in questo e in tanti altri messaggi ci hai promesso che riunirai il tuo piccolo resto con diverse metodologie diversi modi in diversi luoghi tutti questi due figli li raccoglierai in un unico luogo per portarli in un nuovo cielo in una nuova terra nell'attesa che il Padre pulisca il mondo da questo dall'anticristo e da tutte da tutte queste prove che oggi stiamo vivendo in modo tale che questo cielo nuovo e questa terra nuova possano essere abitati nuovamente da questo piccolo resto questo piccolo resto che vivrà nella divina volontà rivelata a Luisa Piccarreta una divina volontà che ci verrà insegnata da tutti gli angeli che scenderanno dal cielo e ci insegneranno non solo a fare la volontà di Dio ma a viverla in ogni respiro in ogni passo in ogni azione allora dolce madre vogliamo consacrare il tuo cuore immacolato ogni giorno e vogliamo diffondere i tuoi messaggi non solo questi ma anche quelli di Međugori Treviniano Romano Ciacarei Luisa de Maria Valeria Copponi e tanti e tanti altri dove il quadro profetico è lo stesso dove cambiano le parole ma non cambiano i significati dove questo piccolo resto Santissima Trinità vuole restare fedele a Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore Amen Finalmente è uscito il mio libro La mia esperienza di conversione a Međugori nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere Grazie a tutti